Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è il più antico parco italiano, è stato istituito nel 1922, quindi credo da tutti sia conosciuto in Italia e all'estero. Per questo territorio è sicuramente un valore aggiunto, un'area di interesse naturalistico internazionale che richiama anche visitatori e quindi può essere un elemento importante per lo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento. Con la città metropolitana oggi e prima con la provincia il Parco ha sempre attivato delle collaborazioni importanti per lo sviluppo del suo territorio che sono legate sia all'educazione ambientale e ovviamente anche a promuovere le attività ricettive. Da alcuni anni stiamo lavorando molto su questo progetto del marchio di qualità, siamo arrivati a circa 100 operatori tra il versante piemontese e il versante valdostano che hanno aderito al nostro marchio e che insieme all'ente sicuramente concorrono allo sviluppo e alla conoscenza di questo territorio. Quindi io mi auspico che le collaborazioni in atto possano continuare proficuamente nell'interesse di entrambi i nostri enti. Grazie. Grazie.